Hi guys, vi presento il mio film Gimme Shulter, con la conferma, con il mio cast di Guardia Pertikara, enjoy! Il mio nome è Rosanna, vivo a Colpa, una città del nord, grande e movimentata. Cosa ci faccio qui? Ho litigato con la mia famiglia e con il mio lui, e adesso mi trovo in questo piccolo paese. Zia, ciao, come stai? Ti preparo il caffè? Rosanna, parti a riposare, va che si stanga eh! Ma no, zio, io esco un po', vabbè, fai quattro ore. Salute! Guardate chi viene! Lea, sceme del nord! Chi viene? Sono una ragazza! Ma che volete? Ma... Che cazzo sei venuta a fare qua? Ma lasciate le nascite! No, Nakanosk! Ma vattene! Questo non è un posto per te! Dai, ancora c'è qua! Dai, tornatene da dove sei venuta! Ma vattene, è sta polendona! Ma... No, Nakanosk! Che ci fai qui? Niente, stavo pensando. A cosa? A quello che è successo oggi. Ti sei divertita a prendermi in giro con le tue amiche? Lo sai perché sono tornata qui? Lo sanno tutti in paese. Hai litigato con i tuoi e ti sei lasciata con Alessandro? No! Non è così! Perchè allora? Sono 15 anni che ti penso e ora sono venuta a riprenderti. Così cosa sto lendo! Non è così... No...